Si è registrato un boom di connessione a internet negli ultimi anni, il 75,2% degli italiani oggi è connesso, ma la tv tradizionale, il digitale terrestre, con il 92,2% di telespettatori continua a essere il mezzo più utilizzato dagli italiani. A dirlo è il quattordicesimo rapporto Censys sulla comunicazione. Nonostante internet abbia preso un buon posto nella vita degli italiani, i media classici non vengono abbandonati. Sempre più prepotenti entrano in gara il telefono cellulare, utilizzato dall'86,9% degli italiani, e lo smartphone, utilizzato dal 69,6% degli stessi, con un picco massimo di 89,3% di diffusione tra i giovani, compresi tra i 14 e i 29 anni, e un minimo di 27,6% tra gli anziani, compresi tra i 65 e gli 80 anni. Ampio pure l'utilizzo di WhatsApp, usato dal 65,7% degli italiani ed i social network più popolari. Facebook con il 56,2%, che sale al 79,9% degli under 30 e scende al 19,2% tra gli over 65, e YouTube con il 49,6%, rispettivamente 75,9% tra i giovani e 16,5% tra gli anziani. La spesa per smartphone, servizi di telefonia e traffico dati si attesta sui 22,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda la televisione, oltre al digitale terrestre, va menzionata anche la tv satellitare, che raggiunge nel 2017 il 43,5% degli italiani. In crescita la tv via internet, web tv e smart tv raggiungono il 26,8% dell'utenza. Anche in questo caso, a fare la differenza dell'età, il 40,9% dei giovani guarda la web tv, contro appena il 7,4% degli anziani. Decolla infine la mobile tv, che in un anno raddoppia i suoi utilizzatori, passati al 22,1%. Lo storico mass media della radio intanto si riconferma ai vertici delle preferenze degli italiani, con un solido 82,6%. La radio tradizionale perde tuttavia 4 punti percentuali, scendendo al 59,1% di italiani radioascoltatori. La flessione è però compensata dall'ascolto di trasmissioni radio via internet, soprattutto tramite personal computer. L'uso di radio attraverso lo smartphone ha riscosso un successo pari al 39,9% tra i più giovani, a fronte del 3,5% dei longevi. L'autoradio si riconferma lo strumento preferito dagli italiani per ascoltare trasmissioni che vanno in onda in diretta. New entry nel panorama dei media sono le piattaforme online per servizi digitali, video e audio, come Netflix o Spotify. Ad oggi l'11,1% degli italiani guarda programmi dalle piattaforme video e il 10,4% ascolta musica da quelle audio. Il dato è più elevato tra le persone istruite, diplomate e laureate. Raddoppia invece tra i più giovani. Il 20,6% degli under 30 si connette a servizi video e il 22,6% a quelli audio. Situazione non rosea invece per i giornali cartacei e dei quotidiani che soffrono il mondo della comunicazione digitale. Oggi solo il 35,8% degli italiani legge i giornali e sebbene negli ultimi dieci anni la stampa ha perso il 25,6% dell'utenza, i quotidiani online ne hanno acquistato solo il 4,1%. Altro gap generazionale rappresentano i siti web di informazione, consultati dal 47,7% dei giovani contro il 17,6% degli anziani. Situazione opposta per i quotidiani, che raggiungono il 23,6% dell'utenza giovanile rispetto al 50,8% dell'utenza ultra 65enne. In sintesi, i media come televisione e radio tengono salda la propria posizione, mentre il cartaceo soccombe di fronte al digitale, specie tra giovani ed adulti. Ma per l'informazione, con il 60,6% dell'utenza, i TG restano il canale preferito dagli italiani. Al secondo posto in ordine di preferenza troviamo Facebook con il 35%. L'egemonia dei telegiornali cresce ulteriormente tra la popolazione più istruita, diplomata o laureata. Di questi il 62,1% resta affezionato ai TG generalisti, il 41,1% a Facebook, il 25,3% a giornali radio, il 23,7% alle TV all news e il 14,2% ai quotidiani. Di importante rilevanza, a proposito di informazione, è il dato Gensys secondo cui a più della metà degli utenti internet è capitato di dare credito a notizie false circolate in rete. È successo al 52,7% dell'utenza. La percentuale scende di poco al 51,9% tra le persone più istruite, ma sale fino al 58,8% tra i giovani under 30. Il fenomeno delle fake news è giudicato pericoloso da tre quarti degli italiani, soprattutto dai più istruiti, secondo cui le bufale vengono create ad arte per inquinare il dibattito pubblico e favorire il populismo. In definitiva, gli italiani sono sia aperti alle nuove frontiere del mondo virtuale, ma i TG rimangono i canali di informazione preferiti dagli stessi sia per popolarità che per attendibilità.